Questo qui attraverso canali di altro tipo, lasciamo vedere, è inutile spiegarci perché e per come. Ma sapere che l'auto del Presidente della Repubblica Italiana, Antonio Segni, nel 1963, era stata sorvolata da un UFO, se permettete è una cosina di una certa importanza. Sapete da chi l'abbiamo saputo questo? Da oltreatlantico! E sapete adesso che cosa abbiamo in mano? Le prove provate, i documenti che lo Stato Maggiore Italiano al massimo livello di segretezza ha inoltrato allora al Project New Book, dicendo, è successo questo caso nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, l'auto presidenziale è stata sorvolata da questo oggetto, c'è anche il visitino, quello diventa carino, ma ovviamente si chiedeva un parere agli audeati americani, i quali hanno risposto sì, il caso è interessante, non possiamo esprimere, eccetera, eccetera, ma quello che è importante è che voi non ne sapete nulla, ovviamente. Beh, adesso questo documento viene da oltreatlantico. Andiamo avanti!